Tra tutte le partite in programma nel prossimo turno del campionato di Serie A femminile, e benvenuti sul canale dedicato al mondo del calcio femminile, sicuramente un posto di riguardo, un ruolo di riguardo merita il derby di Milano. Inter Milan è comunque una classica, una classica perché ci si gioca la supremazia di quella che è stata la capitale calcistica per molti anni. In una città dove il calcio ha una grande importanza, non soltanto a livello maschile ma anche a livello femminile. Per molti versi questo sarà un derby ancora più importante per alcuni fattori fondamentali. Il primo sarà il primo derby che si gioca nel cuore della città. Il Milan fino adesso ha sempre giocato in quella che è la sua House of Football, ovvero il Vismara di Via dei Missaglia nella periferia sud di Milano. L'Inter ha giocato le sue prime partite ufficiali nel campo di casa da piano gentile e negli ultimi anni, negli ultimi tempi, ha giocato a Sesso San Giovanni, nello stadio Breda, lo stadio della Pro Sesto. L'Inter fa un passo significativo in questo senso. Ha chiesto e ottenuto di poter utilizzare l'arena civica, dedicata ormai da quasi 20 anni, da oltre 20 anni, al grande giornalista milanese Gianni Brera. L'arena civica è una struttura monumentale, di grandissima importanza per Milano. Da quelle parti passavano le mura napoleoniche. A 500 metri in linea d'aria c'è l'Arco della Pace, c'è il Castello Sforzesco, è nel cuore del Parco Sempione e a due passi dal centro di Milano. Si arriva all'arena Garivaldi ai piedi dalla passeggiata di Brera, piuttosto che dalla classica passeggiata, dalla classica vasca che si fa da Via Dante fino in San Babila nel quadrilatero commerciale per eccellenza d'Italia. È un desiderio, quello dell'Inter, di riportare il calcio femminile nel cuore della città. Ed è un segnale importante, perché mentre tutte le città sembrano perdere il calcio femminile, la scelta della Juventus di andare a giocare a Biella, quella della Sampdoria costretta a giocare a Vercelli perché non ha più al momento, perlomeno, un campo sul quale appoggiarsi, lo avrà presto, Pomigliano che è costretto a giocare a Torre del Greco e così via, il Como che gioca a Seregno, tutte le squadre cercano un luogo dove ci sia uno spazio sostenibile, dove ci possa essere del pubblico. Milano, paradossalmente, che è una città che avrebbe le maggiori potenzialità in assoluto per portare pubblico ai grandi eventi sportivi, sotto questo aspetto mancava. Una scelta, quella dell'Inter, in completa controtendenza, che fa pensare e sotto un certo aspetto fa ben sperare. L'arena Garibaldi, l'arena, scusate, civica Giannibrera, ha una potenzialità di 10.000 spettatori. Anticamente ne ospitava 30.000. È uno stadio che ha oltre 200 anni di storia. È veramente un posto speciale, dove sono stati battuti i record del mondo, dove ci sono state sfide epiche, dove ha corso Pietro Mennea, dove ha giocato l'Ambrosiana, ma dove ha giocato anche il Milan nell'immediato dopoguerra. Uno stadio che esisteva molto, ma molto prima che ci fosse San Siro e molto, ma molto prima che venisse inventato il calcio. In tutto questo c'è il derby di Milano. Il derby di Milano è in un momento difficile. Il tecnico del Milan, Maurizio Ganza, è appena assaltato. Rita Guarino sulla panchina dell'Inter non sta vivendo un momento facile. La squadra ha appena pochi punti più del Milan. Il Milan è sesto, l'Inter è quinta. Entrambe le squadre sono molto lontane dal terzo posto, che era l'obiettivo minimo per arrivare alla Champions League. Due squadre in difficoltà. Questo derby viene visto un po' come un segno di riscato per entrambe le formazioni, se non altro per decretare quella che potrebbe essere, alla fine dell'anno, una supremozia territoriale sulla città. Però questi tre punti in paglio valgono soprattutto per una classifica che comincia a farsi preoccupante per entrambe le squadre. Più per il Milan, anche per l'Inter, ma anche per l'Inter. La partita è in programma alle 13.45 di sabato. Si gioca l'Arena Civica Gianni Brera nel cuore di Milano, tra due squadre che hanno un disperato bisogno di punti. In una giornata importante, la nonna del campionato di Serie A, Giro di Boa, una settimana di pausa per gli impegni della Nazionale, poi si tornerà con la prima giornata del girone di ritorno e si cominceranno a fare i conti per quelle che sono le cinque posizioni che portano verso la pool dedicata allo scudetto e quelle che invece saranno le cinque squadre che dovranno lottare per evitare l'ultimo posto che porta in Serie B e il penultimo che porta allo spareggio con la seconda classificata del campionato cadetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.